40 anni di attività da giovanissimo ballerino a coreografo, da scenografo a regista, con recenti produzioni anche per il Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania, per il quale sta realizzando la regia e le scene di Madame Butterfly sul palcoscenico a metà aprile del 2025. A compimento di un percorso artistico variegato in una dimensione europea, Lino Privitera è stato insignito della laurea onoris causa dall'Imperiale Accademia di Russia di dottore in musica, opera, danza, teatro e esecuzione artistica, insieme alla nomina di direttore onorario del Dipartimento di Scienze Artistiche e Arti dello Spettacolo. La consegna della pergamena è avvenuta nel contesto di una serata di gala in un locale della Riviera Acese. L'onoris causa è stato un incoronamento veramente della mia carriera, 40 anni di carriera, poi il fatto che ho fatto una bellissima carriera come ballerino, poi ho avuto nel 91, ho vinto il titolo mondiale a Parigi il privo all in in e da lì ho iniziato a fare il coreografo per grandi registi, quindi ho fatto diciamo la scuola sul posto, cioè vivendo in teatro, ho affiancato grandi registi come Maestro Cobelli, Ugo Deana e ho avuto la fortuna di poter sperimentare anche questo tipo di talento che avevo in me, oltre il titolo mondiale che avevo vinto a Parigi come coreografo, lavorare nell'opera lirica, quindi mi entrai in un mondo per me nuovo che era la lirica e è stata oggi quello che oggi mi ha formato e faccio oggi il regista di opere, avendo poi anche la fortuna di aver fatto anche la scuola di disegno, oggi penso alle mie opere a 360 gradi, quindi firmo le scene, i costumi e anche oltre la regia la coreografia, quindi nei miei spettacoli si vede un tutt'uno del mio essere artista. Grazie mille! Grazie mille!